Un'interrogazione della consigliera comunale del PD Annelisa Petitto al sindaco sulla polizia municipale. Tutto nasce da un consiglio comunale in cui c'erano da votare tre debiti fuori bilancio di dipendenti impiegati per altri ruoli che poi fanno causa ed il comune deve pagare. La richiesta al sindaco è quella di controllare se ci sono inerzie o inadempienze. Ho approfittato del consiglio comunale di ieri fissato con appunto all'ordine del giorno tre debiti fuori bilancio per mettere in ingresso e diretta al sindaco un'interrogazione relativa ai debiti fuori bilancio che scaturiscono da sentenze che riconoscono il trattamento economico per mansioni superiori di taluni lavoratori della polizia municipale. Ho fatto appello al sindaco affinché verifichi che le situazioni che hanno originato la vertenza giudiziaria e quindi successivamente la sentenza dove il comune è stato soccombente siano state rimosse e ove le stesse non siano state rimosse di provvedere immediatamente alla rimozione delle stesse e questo in considerazione del fatto che i cittadini non possono pagare attraverso proprio il bilancio dell'ente inerzie o comunque inadempienze della pubblica amministrazione.